non hai letto alto raga l'atmosfera è più di bella di così sì 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 sento camminare hai sentito camminare raga ho voluto fare solo un episodio perché comunque ciao ragazzi benvenuti nel video del paranormal finalmente ho voluto fare solo un episodio il problema è perché sentevamo troppi rumori ci siamo un po spaventati a dire vero raga era pieno di passi dopo sentirete non vi spoiler o niente raga ci siamo cagati in mano quindi abbiamo deciso di fare solo un episodio intanto vi carico adesso subito prima che inizi il video randonautica abbiamo fatto una cosa un'anomale raga abbiamo detto dovevamo trovare un fantasma ci ha portato in questo posto raga inquietante e giuro questo fantasma qua ci ha lanciato via ci ha proprio detto andate via non vi spoiler andate a vedere adesso raga siamo arrivati al posto dove ci ha indicato l'applicazione che già raga è inquietante indica perché c'è un fiume ok andiamo avanti andiamo avanti qualche metro più avanti di qua raga mangiare mangiare qua indicava però dentro dell'altra parte del fiume non possiamo farlo eh no non possiamo raga raga fai vedere non potermi la torcia non si vede se no ok bravo raga strumento magari intende questo raga qua indicava il punto indicava qua però dall'altra parte non ti dice nient'altro via via no dai raga no no andiamo via ho l'aria pesantissima cioè mi sento osservato ragazzi benvenuti con il prossimo video sono 0.04 intro veloce volevo anticiparvi che adesso da questa settimana usciranno i video lunedì mercoledì venerdì e domenica non perdetevi tutti gli episodi di paranormal che stiamo caricando adesso usciranno un po' di paranormal siamo pure col temporale a registrare questo studio episodio del vico lasciate 10 like arriviamo a 10 like perché merita un botto questa scena qua mi ricorda i vecchi tempi mi ricorda i vecchi tempi non lo so ma c'era anche prima mi ricorda i vecchissimi tempi ma che ne cadono anche due raga eccoci dopo tantissimo tempo c'è sta pianta che dà un fastidio puntala ehi giorgio ehi giorgio non voglio urlare non voglio urlare troppo puntala di qua puntala di qua puntala in fondo giorgio giorgio siamo venuti per te ci sei? ci sei? ci sei ti chiami giorgio? ti ricordi di noi? si si ti chiami giorgio? 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 dobbiamo stare calmi non mi piace non mi piace puntala mi piace ti chiami giorgio? voi luminarti? siamo tornati a visto? No, inquadra qua, per favore Mirko, la torcia di qua Andiamo via, basta Ci segui? Dice qualcosa? Illuminati Passo qua, ma forte Ma andiamo davanti Regno Siamo Siamo nel tuo regno? Nel tuo posto? Tu non vuoi che stiamo qui? Rispetto Ho capito cosa vuole Vuole rispetto lui Vuole rispetto Vuole che noi non veniamo più Giusto? Minchia, finarrange Quindi Non ci vuoi più Faccio il rumore Passo davanti Un posto sacro Mi trema la mano E si intende che un posto sacro perché c'è la cruce Faccio un altro rumore Memoria Si ricorda di noi Memoria Ci ricordi di noi Madonna Ci deve fare del male Si si Se non ce ne andiamo No No Sto tenuto E se io mi avvicino cosa mi fai? Guarda C'è proprio qualcuno che fa avanti C'è qualcuno che fa avanti indietro C'è qualcuno che fa avanti indietro E raga non è un umano perché Non c'è nessuno raga C'è qualcuno che fa avanti indietro C'è qualcuno che fa avanti indietro